Ciao da Max Trezza, il vostro consulente immobiliare. Ho una proposta immobiliare a Carini in via Icara 35. Una villa indipendente, costruzione 2020. Davvero molto deliziosa. Qua è possibile posteggiare sino a due auto, ovvero all'interno degli ampi spazi esterni della villa. Ampi spazi che permettono anche la realizzazione di una splendida piscina. Da questa porta blindata accediamo all'area salotto. Qui inquadrata vedete la scala per accedere a piano superiore. Vi sono le preisposizioni per i condizionatori in tutte le stanze, i riscaldamenti, gli infissi sono nuovi così come tutti gli impianti. Potete notare quanto è delizioso questo bagno al piano, al piano terra. E anche lo stile di arredamento davvero molto carino. Ecco un'altra panoramica sempre del salone. E qui entriamo nella stanza regina di ogni casa. Una meravigliosa cucina di 20 metri quadrati a giorno. Veramente incantevole. In tipico stile americano che con questa grande isola permette di poter anche pranzare direttamente sul piano dove si prepara da mangiare. Gli spazi esterni sono, come abbiamo detto, molto ampi, comodi e da qui una prospettiva dell'intera palazzina. Il lastrico solare è possibile raggiungerlo installando una scala. Siamo saliti al piano superiore e vediamo quest'altro bagno sempre delizioso. La prima camera da letto con balcone. Da quel balcone è possibile collegare una scala per il lastrico solare. Qui abbiamo visto un incavo dove poter realizzare un armario a muro e qui un'altra stanza. La villetta è in classe C. È possibile installare fotovoltaico ed aspetta solo voi.